Come adattare il tuo allenamento in base alla tua tipologia di fisico? Sei ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, quindi come devi fare i tuoi allenamenti? Prima di pensare a tutti questi cavilli in base alla tua forma fisica, alla lunghezza degli arti, il tronco, eccetera, pensa che la prima cosa su cui ti devi concentrare è muoverti in maniera tecnica, imparare a muoverti, a muovere il tuo corpo e a muoverti sotto un carico che diventa sempre più pesante. Se lo farai in maniera tecnica, in sicurezza, con dei carichi che aumentano nel corso del tempo, ti assicuro che otterrai grandissimi risultati, indipendentemente dal tipo del tuo fisico. Quindi comincia a concentrarti su quello, comincia a seguire le progressioni vere, questo è quello che devi fare se vuoi migliorare fisicamente. Non ti perdere nei meandri di tutti i mini dettagli, le finezze, concentrati sulla base, crea un motore forte nei tuoi muscoli che possa lavorare a livello di forza e quindi farti crescere anche a livello muscolare. Dopodiché poi potrai concentrarti sulle finezze quando avrai raggiunto un livello adeguato. Ma il primo step è proprio questo, impara a muoverti sotto i carichi in maniera tecnica e progressiva. Grazie a tutti.